Camione si ribalta nel tardo pomeriggio di mercoledì sulla strada della Libia. Ferito il conducente del mezzo pesante è un 36enne residente a Bibbiena che è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso in codice giallo all'ospedale delle scotte di Siena. Dagli scatti dei vigili del fuoco si comprende come si sia trattato di un grave incidente e che al conducente del mezzo sia andata davvero bene. Oltre al 118, 5 unità alfa 1 dei vigili del fuoco più autogru sono intervenuti sulla provinciale della Libia anche per rimuovere il mezzo pesante che si era ribaltato.